Alessia Marcuzzi diventa anche un'imprenditrice beauty e presenta la sua linea di skincare luce senza trucco si mostra sul web per illustrare i suoi prodotti tutti made in italy perché ho deciso di farla perché io ci tengo tanto la mia pelle e voglio che la mia pelle sia sana è un organo importantissimo va curato e quindi ho pensato di creare una crema che fosse perfetta per me perché la cercavo da tanto tempo magari sul momento mi dava anche un effetto pazzesco me la sentivo morbida liftata e tutto però poi avevo voglia di qualcosa che facesse bene proprio nel lungo termine quindi anche nella durata quindi ho cercato di usare tutti i prodotti completamente naturali al 99 per cento e di usare tutti i prodotti italiani la maggior parte dei miei prodotti sono nella macchia mediterranea la marcuzzi promette grandi risultati come quelli che ha ottenuto lei sulle sue rughe la uso da cinque mesi e mezzo forse anche sei ho un effetto pazzesco allora sono notevolmente diminuite le rughette io sono una rugosetta anzi molto rugosa sul collo ne ho veramente tantissime però sono molto migliorate molto migliorate le rughe del viso i pori sono molto meno dilatati e io non ho più bisogno di mettere il fondotinta ve lo giuro non ci crederete lo devi mettere però metto un filo di rossetto e un po di mascara e posso uscire